Ciao, allora, so che questo è periodo di esami, esami universitari, tra non molto dovrebbero cominciare anche gli esami di maturità, quindi ho pensato a questo look. Credo che sia anche un trucco adatto a chi porta gli occhiali, un trucco adatto anche per un colloquio di lavoro. L'occhiale aiuta sempre. In questo video troverete due opzioni diverse. Questo primo look che vuole trasmettere una certa sicurezza. Voi non avete paura degli esami, voi sapete già tutto. Stavo volando il bicchiere. Siete preparate? Avete dormito tranquillamente perché non avete alcuna ansia? Ansia? Quale ansia? Esami! Io non temo nulla. Conosco la sua materia meglio di lei. No, questo no che poi potrebbe... no, no vabbè, questa la lasciamo perdere. Quindi se questo è il look che fa per voi, vediamo insieme cosa ha combinato. No, ok. No, ok. Grazie a tutti. 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 Questa è una calza bianca tagliata e rotolata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Invece per chi vuole trasmettere tutt'altra sensazione, questa è la seconda opzione. Il viso è pallido, dato che ormai non vedete la luce del sole da mesi. Edward vi fa un baffo, l'occhio arrossato e l'occhio arrossato e l'occhiaia profonda sono prova inconfutabile di notti passate sui libri. Avete pure perso 300 grazie a tutti. Con un pennellino da sfumato con un pennellino da sfumatura ho applicato prima un ombretto marrone e dopo un ombretto viola per creare l'illusione delle occhiaie, anche più che illusioni, ho semplicemente enfatizzato quelle che ho già. Il mascara è stato applicato al buio. Le sopracciglia le ho semplicemente spettinate. Dato che abbiamo perso 300 grammi, ho applicato un po' di ombretto marrone per fare un po' di contouring, per snellire il viso. I capelli se sono abbastanza sporchi li potete lasciare sciolti oppure potete fare una coda bella disordinata. Mi raccomando cercate di curare l'espressione perché l'espressione deve parlare prima delle parole. Fate finta che vi addormentate, no? Perché avete studiato tutta la notte. Mi raccomando perché qui bisogna giocare molto sulla sensibilità del professore. Dobbiamo impietosirlo. No, no, professore, che... niente. Cioè, tutta la notte, che studia. Mi sono venuti i capelli bianchi, non mi crede? Ho il tempo neanche per fare la doccia. Si sente? Per dare un bello odore forte alla vostra maglia, usate anche solamente una volta, per lavare il pavimento, lasciatelo asciugare e poi è pronta per essere indossata. E se iniziate a vedere che l'esame non sta andando proprio al meglio... Così avrete il tempo di andare in bagno e ripassare con il libro che avrete nascosto dentro lo sciacquone. E in bocca al lupo, che sia un esame, che sia un colloquio di lavoro, mi raccomando, credeteci. Se ci credete, siete già a metà dell'opera. L'opera. L'opera. Così si diceva. Boh. Ah, mi scusi, ma sono stanchissima, stanchissima, sono proprio stanchissima.